Questo è l'affresco che vi dicevo e quello che dicevo io, lei sa che dietro c'è un altro affresco, quello che ho notato è che i buchi, e se si va a guardare adesso si vede, i buchi che sono stati usati per andare dall'altra parte la sonda, io li vedo ancora aperti, il problema è che quindi quando mi si dice che dall'altra parte l'affresco si è conservato, perché se c'è il microclima, il microclima col buco aperto, tanti saluti e ciao, quindi non so che, secondo me non lo troviamo più.